Occhio ai giornali, buongiorno a tutti e soprattutto ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17, come tutte le mattine diamo uno sguardo ai giornali, un'occhiata ai tre quotidiani il Carlino, il Corriere, il Messaggero, oggi è il 10 di giugno e vediamo subito il Santo del Giorno oggi è Santa Diana, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.50 il sole splende già sulla riviera Adriatica con 20 gradi alle 7.30 di questa mattina mentre per oggi avremo un po' di nuvolosità con pioggia alternata a schiarite nell'entroterra con qualche rovescio temporale nelle zone alto collinari per il resto come vedete dalla grafica il sole splenderà su tutta la costa le temperature sono in aumento nei valori massimi per domani giovedì 11 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature lieve aumento e venerdì 12 invece lo stesso, un po' di nuvolosità nell'entroterra ma poi tutto sommato il tempo lungo la costa dove l'economia gira grazie anche al bel tempo e quindi con i bagnanti che arrivano per il fine settimana in particolare ci sarà il sole tempo stabile anche per tutto il fine settimana quindi sabato e domenica con probabile spostamento dell'anticiclone ad inizio della prossima con conseguente peggioramento per metà settimana cominciamo a leggere i giornali dunque, cominciamo dal Corriere Adriatico non mi dimetto, credo di essere utile sono le parole del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Fabio Tombari il Presidente Tombari respinge l'invito e le critiche di Bene Comune perdite maggiori per altre fondazioni i compensi ridotti di un quarto percepisco dice 4.900 euro in tre mesi svalutazione provocata da Banca Marche e sempre su questo argomento qui di spalla quel doppio ruolo mai pensato di avere interessi in conflitto e Fabio Tombari dice in sostanza che resterà in carica se ovviamente continuerà ad avere la fiducia del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea dei Soci dice resterò per i cinque anni quindi non ho intenzione di dimettermi esattamente fino all'11 maggio del 2019 la politica stallo sul dopo Minardi Minardi è stato eletto come ben sapete consigliere regionale quindi lascerà l'incarico di Presidente del Consiglio Comunale di Fano e sul dopo Minardi Progetto Fano dice Seri non ceda al Partito Democratico polemica dai toni grevi sul settimo ossessore quel partito ha tante bocche da sfamare ma i 40.000 euro all'anno servono alla città oggi primo incontro della maggioranza utile per discutere la questione il sindaco adesso si trova tra due fuochi diamo alla giunta sei mesi di tempo per valorizzare la corte malatestiana come promesso Bacchiocchi di Apriamo il Centro dopo l'incontro con il vice sindaco Marcheggiani andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico sistemato il litorale di Sassonia usati 9.000 metri cubi di ghiaia curata anche la passeggiata il degrado nei press invece della foce Arzilla il sindaco Massimo Seri a destra insieme al geometra dell'ufficio comunale Bruno Agostinelli che controlla la sistemazione della spiaggia di Sassonia dopo l'opera di ripascimento sotto invece alcuni cumuli di detriti nel litorale nord nei pressi della foce del torrente Arzilla poi si parla del festival Passaggi per cinque giorni Fano sarà il fulcro della cultura prende il via infatti mercoledì prossimo questa iniziativa questo festival con dibattiti sui temi di attualità e di spettacolo ancora dal Corriere Adriatico la cronaca non si ferma all'alt dei carabinieri e finisce per schiantarsi alla stazione ferroviaria la fuga nella notte di un'automobilista dure pochi chilometri poi si allontana a piedi probabilmente voleva nascondere il suo stato di ebrezza da Monteporzio sequestrati 10.000 chili di rifiuti pericolosi recettazione e gestione illecita di materiale ferroso denunciate due persone del posto per i ragazzi pergolesi niente tirocini scuola e lavoro Cuccaroni consigliere d'opposizione ricorda la mozione presentata per attivarli e accusa la giunta di aver cancellato un'importante occasione poi a Isola del Piano dunque sette dipendenti della Gemband volontari alla fattoria della legalità donata una giornata di lavoro dalle maestranze della società texana da Senigallia niente sottopassi al mare con il brivido lettera al sindaco troppi rischi nella zona nord di Marzocca l'altro nodo è la sosta selvaggia poi aggancia una squillo una prostituta e la moglie lo molla lo lascia la contravenzione arriva a casa la consorte corre dall'avvocato a chiedere il divorzio è stato multato mentre mentre stava contrattando il prezzo per una prestazione sessuale con una prostituta la moglie ha chiesto appunto il divorzio causa della rottura del matrimonio la notifica a casa della sanzione una scappatella pagata a caro prezzo da un cinquantenne residente nell'interland senigallese che si è visto recapitare a casa una maximulta da 400 euro poi la giunta sempre da Senigallia sarà a 7 con 3 donne Mangialardi il sindaco ha deciso la formula Girolametti alla sanità ci saranno anche un esterno ed un jolly apriamo adesso il messaggero la pagina di Pesaro la pagina principale il giorno del pagamento delle tasse tax day scadenza però senza file il 16 giugno infatti si pagano l'Imu la Tari e la Tasi ma in tanti hanno provveduto in anticipo Feder Consumatori protesta contro l'ingorgo fiscale le famiglie dice l'associazione che difende i consumatori sono in grossa difficoltà a centro pagina droga per la Movida arresti nel Pesarese ben 26 ordinanze di custodia in carcere emesse dalla procura di Rimini per una max inchiesta antidroga tre riguardano residenti in provincia di Pesaro è stato stroncato un maxigiro di droga in Romagna poi visse il sindaco unite le forze due squadre in eccellenza non hanno senso la ristrutturazione dello stadio intanto lo stadio Benelli di Pesaro va avanti intanto si preannuncia un fine settimana molto caldo dal punto di vista meteorologico anzi con la presenza di AFA la politica regionale giunta cresce la fronda contro il segretario regionale del PD Comi Comi come assessore torna in ballo Marcolini la minoranza PD attacca il segretario che invece affronta il nodo dell'Udc si adegui alle indicazioni di Ceriscioli mentre il premier Renzi dice Luca ha ricompattato il partito il premier durante la direzione nazionale ha elogiato più volte il governatore delle Marche anche qui la politica in particolare ci soffermiamo su questo articolo che riguarda l'affondo di Gostoli che risponde in sostanza all'attacco di Giovannelli di ieri PD Gostoli a muso duro contro Giovanelli il segretario dice prima di criticare faccia la campagna elettorale pensi al bene comune più che al risentimento personale poi anche qui la cronaca con tutta la cronaca e tutto il racconto di come sono di come si è svolto questa operazione titano che ha portato all'arresto anche di tre pesaresi tre corrieri pesaresi arrestati avevano la droga appunto per la movida poi domani invece in cattedrale a Pesaro l'addio al piccolo di venti mesi il piccolo Edoardo Edo il bimbo morto per un edema celebrale tantissimi messaggi di vicinanza ai genitori del piccolo che aveva appena venti mesi un minuto di silenzio invece in consiglio comunale a Pesaro poi le ruspe finiscono il lavoro in spiaggia Santa Colombo addurerà tutta l'estate e sempre dalle pagine di Pesaro vela pesca e nuoto per tutti con marinando al porto sono i vari appuntamenti che segnalano i giornali poi metalli rubati nascosti in una ditta sequestri denunce blitz della forestale in un'azienda che raccoglie rifiuti ferrosi il titolare ed un marocchino sono accusati di ricettazione siamo a Monteporzio trovate oltre 10 tonnellate di rame acciaio e ottone delle quali non si conosce la provenienza poi ancora da Montellabate nuovo boom di poveri la Caritas è al collasso stiamo assistendo 100 famiglie assolutamente povere nel territorio che comprende Montellabate Apsel e Osteria Nuova e noi 5 volontari nel locale messo a disposizione del comune di Montellabate siamo in un momento di collasso organizzativo ed economico la pagina di Fano del Messaggero invece si occupa del braccio di ferro che si è aperto e che continua sulla corte malatestiana ebbene braccio di ferro sugli spettacoli estivi non si ferma la polemica tra il Sant'Arcangelo e la corte malatestiana in più di mille sono contrari al trasloco degli spettacoli dalla corte al Sant'Arcangelo ma sotto tiro finisce anche la mancata concertazione della decisione quasi a dire è stato fatto un po' così in solitudine in solitaria una decisione presa da soli i promotori della prima raccolta di firme accusano i negozianti di piazza Amiani e dicono strumentalizziamo scusate strumentalizzano la nostra petizione ok poi risistemata la spiaggia di Sassonia l'abbiamo già visto anche sul Corriere Adriatico poi un altro appuntamento venerdì 12 12 di giugno quindi tra pochi giorni a Fano arriva la Nazionale TV per aiutare il volontariato i personaggi televisivi contro la squadra dei prefetti venerdì alla partita del cuore alle 20 e 30 il fischio d'inizio allo stadio Mancini di Fano andiamo e chiudiamo la nostra rassegna stampa con le pagine del resto del Carlino quella di Fano test deficienza sulla zona mare l'Arzilla è in ritardo Aramis Garbatini dice c'è poca attenzione un cantiere aperto un muro di ghiaia alla foce si attendono interventi e la conclusione dei lavori l'altra pagina del Corriere la cronaca inseguiti dai carabinieri si schiantano con l'auto ma riescono a fuggire a piedi dalla stazione due uomini fermati ad un posto di blocco in via Papieri la fotografia invece si riferisce appunto al momento in cui è stata recuperata l'auto dal carro attrezzi auto che poi ha fatto anche diversi danni lì nei pressi della stazione l'enigma del settimo assessore invece il PD lo vuole il sindaco invece molto meno Seri dice per ora non è in agenda tutto rinviato di una settimana la Rosetta Fulvi pronta a sostituire Renato Claudio Minardi Fanesi si candida per il nuovo assessorato dalla centrodestra Mirisola il tavolo del centrodestra c'è il coordinatore ma è aperto a chi rinuncia ai personalismi da Monteporzo sequestrati oltre 10.000 rifiuti due le denunce la forestare controlla nove rottamatori e quattro trasportatori mentre a Marotta aspettando Enrico Ruggeri il cantante Marotta si tinge di rosa in cantiere 120 per la stagione turistica l'assessore Silvestrini spettacoli di grande respiro saranno alternati a piccoli appuntamenti in programma il 3 luglio si esibirà la band di Montedo in agosto cittadinanza al cantante Enrico Ruggeri che tra l'altro in alcune interviste ha detto che la canzone una delle sue canzoni più importanti più famose il mare d'inverno è stata ispirata proprio dal mare di Marotta ecco perché probabilmente poi è arrivato anche questo riconoscimento Gostoli la politica regionale Gostoli si scaglia contro Giovanelli lui ha sempre vissuto di politica dice il segretario del PD che in calza invece di criticare doveva fare campagna elettorale l'attacco di via Mastro Giorgio giusta la considerazione sulla crisi ma al contrario di Giovanelli io sono fiducioso sul segnale di ripresa se l'acqua è bassa aveva detto ieri Giovanelli se l'acqua è bassa è perché c'è chi ha prosciugato i pozzi di credibilità delle istituzioni risponde Gostoli oggi perché ieri Giovanelli aveva detto ricorderete aveva detto Ceriscioli ha vinto dove l'acqua era già bassa insomma come dire con facilità e la risposta oggi di Gostoli ok andiamo allora sulle ultime sulle ultime pagine del resto del Carlino i misteri dell'Adriatico il corpo che è stato ritrovato in mare non è di in spiaggia non è di Franchini ora si accerta invece se sia se sia di Ivan Pegan la magistratura non trascura nessuna ipotesi per dargli un nome il 44enne fanese svanito nel giugno del 2013 potrebbe essere rientrato in Italia tra gli accertamenti in corso anche quella su due marinai turchi chiudiamo con la sanità e le inchieste il caso Capalbo nomine Asur chiesti dieci mesi di carcere in graticola la commissione regionale a denunciare la vicenda il dottor Sossai che ora chiede risarcimento di 100 mila euro pur essendo la principale beneficiaria della scelta la direttrice Capalbo non è mai stata indagata ok ci fermiamo qui con l'informazione di prima mattina vi abbiamo letto i giornali o perlomeno le notizie più importanti ma come sempre i giornali sono pieni di tante altre notizie che ovviamente in una rassegna stampa non trovano anche per motivi di spazio tempo e allora ci fermiamo qui vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale arrivederci a Grazie a tutti.